Gianfranco Aldo Riga era nato a Crotone l'1 settembre 1968. Era il secondo dei tre figli di Edio, il fondatore della nostra emittente, ed era anche l'unico figlio maschio. Quando dunque il vecchio patriarca è stato costretto a lasciare il timone, lo ha rilevato lui che del resto è cresciuto a pane e tv. Aveva poco più di dieci anni quando Videocalabria emise i primi vagiti e negli studi televisivi ha trascorso tutto il tempo libero dagli impegni scolastici. Era il periodo tra il 1977 e i primi anni 80 nel quale le tv private spuntavano come funghi ad ogni angolo d'Italia. Da un lato opportunità commerciale, dall'altro vero e proprio esibizionismo fine a se stesso, senza molte pretese. Videocalabria è stata qualcos'altro sin dall'inizio. Le autoproduzioni a quei tempi erano pochissime, caserecce, tanti cartoni animati e i filmacci in bianco e nero con i quali si colmavano i palinsesti e si sfuggiva l'implacabilità del diritto d'autore. Gianfranco è cresciuto respirando quell'aria, guardando e ascoltando, rielaborando e apprendendo, iniziando a farsi una sua idea di televisione. Le reti già all'inizio del 1980 sono diventate due. Una denominata Videocalabria 2 con proprie autonomia e programmazione e l'altra per offrire una sponda al troppo spesso dimenticato editore milanese Edilio Rusconi, che aveva fondato a Milano Antenna Nord ed a Roma Quinta Rete, le due emittenti che diedero vita ad Italia 1. Due anni dopo, nel 1982, Rusconi cedeva il network al rampante Silvio Berlusconi. Un evento determinante anche per le sorti e la crescita di Videocalabria, anche perché in quella palestra il nostro editore, che all'epoca aveva appena 15 anni, ebbe l'opportunità di confrontarsi con l'apertura mentale e la spiccata visione manageriale tipica dei milanesi in affari. Accade questo. Elio Riga aveva sin dall'inizio dato alla gestione della sua tv un'impronta familiare, una scelta mai rinegata anche dal figlio, che però maturava l'esperienza e la competenza necessarie per implementare quella risoluzione culturale, se vogliamo molto calabrese, con altre doti ed altre valutazioni. Anche perché dagli anni 90 in poi il settore delle tv private è stato soggetto a mutazioni continue, impetuose. Il pionerismo era finito, la concorrenza, dopo la necessaria scrematura resasi indispensabile a causa della proliferazione incontrollata, era divenuta spietata. Furono quelli gli anni del derby degli ascolti fra Videocalabria e Telespazio, che vedeva la monolitica emittente catanzarese quasi sempre un passo avanti. Dal 1984 era nata l'audite. Il secondo posto negli ascolti era assai più che onorevole, considerate anche le dimensioni delle forze in campo, ma Gianfranco non la pensava così, non si accontentava di strappare il primato all'avversario per un paio di mesi all'anno. Ormai in televisione era entrato non solo per diritto di discendenza, ma anche con personalità. Quando all'inizio degli anni 2000 la malattia ebbe il sopravvento sul patriarca, il passaggio di consegne formale era già stato preceduto da scelte editoriali ben più pesanti, prese proprio dal giovane Delfino, che si era fatto affiancare dal cognato, Salvatore Gaetano, amico, confidente, consigliere. Ormai Videocalabria è da tutti identificata come la tv di Gianfranco e Pablo, e dopo anni di tentativi è arrivato il momento del sorpasso e dell'allungo. Grazie alla determinazione, alle intuizioni visionarie, in qualche caso ai rischi di Gianfranco Riga, Videocalabria diviene la prima emittente televisiva calabrese per numero di ascolti, saldamente ed indiscutibilmente. Un primato che tuttora mantiene nonostante una concorrenza cresciuta sia a livello economico che qualitativo. Ma per prendere sufficientemente l'idea della crescita dell'emittente sotto la presidenza di Gianfranco Riga, bisogna guardare un altro dato. Primato regionale a parte, infatti, Videocalabria si piazza ai primi cinque posti in Italia per numero di telespettatori in rapporto alla popolazione residente e dunque alla potenziale platea di utenti. Davanti ci sono autentici colossi come Telenombardia o Telenorba. Risultati resi possibili dal lavoro costante, ma anche dalla capacità di adattarsi ai cambiamenti continui di un settore che, come tutti quelli ad alta tecnologia, ha subito e subisce un'ininterrotta evoluzione. Quei cambiamenti Riga è stato capace di assecondarli, molto spesso di interpretarli assai prima di altri. Un passo avanti, almeno uno rispetto a tutti, questa è la sua idea. Giocare d'anticipo, non farsi sorprendere e prendere esempio dai migliori, non per copiare o, peggio, scimmiotare, ma per offrire un prodotto migliore reinterpretando con originalità. Pochi lo ricordano, ma Videocalabri è stata una delle prime televisioni private italiane ad aver trasmesso, nel 1990, una serata di gala interamente prodotta dal Teatro Rendano di Cosenza. Ed è stata la prima a trasmettere una partita di calcio in diretta via satellite nel 1998. Sono numerosissime le trasmissioni entrate nella testa e nel cuore dei calabresi negli ultimi anni. We Paisà, Si giri con mia, Ti rullo all'ero, Sono tremendo, bimbo show, A casa tua, Matrimonio all'italiana, solo per citare alcune delle più fortunate e premiate dall'Auditel. Le basi del successo poggiate su alcuni capisaldi. Lo sport, almeno fino all'esplosione delle pay tv che hanno annichilito l'offerta a livello territoriale, l'intrattenimento e le telenovelas, scelte perfino criticate ma ponderate. Dovute al bacino d'utenza, alle caratteristiche anagrafiche dei clienti, in base ai quali, da sempre, occorre calibrare l'offerta. La rivoluzione digitale, la vera seconda fase storica della televisione in Italia dopo l'avvio delle trasmissioni nel 1954, lo aveva visto come sempre in prima fila. Sia nella battaglia per far comprendere alla politica la portata dell'evento e quanto fosse indispensabile sostenere un settore altrimenti destinato a rimanerne travolto, sia ancora negli investimenti. Videocalabria è l'unica televisione calabrese ad aver pesantemente messo mano alle infrastrutture di rete, con la sostituzione completa di tutti i trasmettitori e gli apparati per adeguarsi al nuovo sistema di trasmissione, la cui entrata a regime l'Italia ha più volte rinviato. Una scelta difficile e onerosissima, negli anni in cui anche l'Italia è stata travolta dall'onda lunga della crisi economica globale. Sapeva che il prezzo da pagare sarebbe stato altissimo in tutti i sensi, ma è andato avanti lo stesso, orgogliosamente e consapevolmente. Aveva seminato come nessuno, e nessuno come lui che aveva anche condotto spettacoli e il telegiornale, che aveva usato la telecamera, sapeva di televisione. Non ha avuto purtroppo il tempo di cogliere i frutti come avrebbe meritato. Se l'imprenditore era fiero, irruento, audace, istintivo, l'uomo era molto più pacato, assennato, riservato. Non si fidava facilmente, ma quando si fidava lasciava fare. Niente briglie, poche indicazioni. Era meticoloso. Lo era sui contenuti etici, sui quali pretendeva irreprensibilità. Massima attenzione ai bambini, ai casi umanamente delicati, nessuna sguaiataggine, al bando scurrilità e cafonate varie, così di moda, così tanto di moda per fare ascolti. Ma la sua attenzione era focalizzata soprattutto sull'immagine. Aveva capito che in tv la forma è sostanza e si adattava, anche se in qualche caso con fatica. Le pentole mai aveva detto una volta il padre. Poi le cose erano cambiate, perché le cose cambiano, e mai, non si deve dire, ma c'era sempre un limite. C'era sempre stato. Ha vissuto il suo ruolo, per forza di cose pubblico, con enorme discrezione. Era quasi schivo, pochissime le concessioni, rarissime le interviste. Anche noi qui in tv capitava non lo si vedesse per giorni, anche se era al suo posto, nel suo ufficio. Era un fegatoso, un istintivo, tante le sfuriate. Forse negli ultimi tempi avvertiva la fatica del ruolo e della responsabilità. Troppo. Lo hanno ricordato in tanti, così tanti che non riusciremmo anche volendo a tenerne il conto. Citiamo per rispetto istituzionale i presidenti di giunta e consiglio regionali, Oliverio e Scalzo. Tutti gli editori di tutte le tv, le radio, i giornali e i siti hanno partecipato compattamente al cordoglio e li ringraziamo. Inconsolabili le due donne della sua vita che portano lo stesso nome, Elisabetta, la mamma e la figlia che adorava, e le sorelle Anna e Chetti, il cui accorato saluto ha lacerato il silenzio della basilica minore in cui sono avvenute le esequie. Ho perso un fratello, ripete il direttore di Videocalabria, Salvatore Gaetano. Forse anche qualcosa di più, espirato fra le sue braccia giovedì notte. Il destino ha eternato il loro rapporto, saldandolo nella maniera più tragica, ma dal punto di vista cristiano forse più coerente.